Questo qui sta misurando pure l'aria. Il rapporto di compressione è un rapporto di compressione. Il rapporto di compressione sta misurando mentre io sono su privato. Il rapporto di compressione sta misurando mentre io sono su privato. Però, porto lì, porto lì. Che può succedere? Tu hai una gemellazione. Qui ci sono, non è conto.